Siamo al terzo giorno dell'intensivo e sono uscito per farmi una passeggiata. Qui c'è un grande silenzio, le persone stanno rispettando il silenzio, stanno meditando, stanno indagando sulla domanda chi sono io attraverso il metodo che viene insegnato nell'intensivo. E stanno succedendo cose bellissime e le vorrei condividere con te. Perché vedere una persona che arriva a un ritiro come questo, con tanti pesi sulle spalle, con la sensazione che sarà un altro fallimento, che è troppo difficile vivere, che è troppo difficile andare avanti, che veramente alle volte arriviamo a pensare la faccio finita perché è troppo dura la vita, è troppo dolorosa. Ecco, vedere queste persone che finalmente riescono a piangere, riescono a buttare fuori quel dolore, riescono alla fine a uscirne e a ritrovare il sorriso e a ritrovare la pienezza e a muoversi verso la consapevolezza più bella che possano mai realizzare, cioè la consapevolezza del sé, la consapevolezza di chi loro sono. Perché lo scopo dell'intensivo è questo, cioè realizzare chi sei veramente. E ovviamente nel percorso che facciamo accadono tanti scioglimenti, tanti sblocchi, tanti limiti che vengono superati perché chi sei tu è la completa, la totale manifestazione della tua libertà. Quindi ovviamente tutte le catene, tutte le prigioni che incontriamo vengono elaborate, vengono maneggiate, vengono dissolte, discrete, superate e riesci a uscire da quelle scatole, riesci a liberare la tua anima da quelle prigioni. Ecco, è bellissimo, è davvero bello, cioè è meraviglioso vedere le persone che stanno avendo queste conquiste. Io sono così onorato di questo e sono davvero molto, molto grato. Proprio in questa gratitudine, in questo amore che provo in questo momento verso la vita, verso le persone, verso tutti i ricercatori anche che mi seguono, che mi ascoltano da anni e anni, ho deciso di offrire in questo momento per tre persone, offrire un kit di avanzamento spirituale che comprende l'intensivo di risveglio, del materiale per prepararsi al risveglio e una consulenza, una sessione proprio gratuita con me, cioè dove possiamo lavorare proprio su un blocco e andare a sciogliere delle cose che ti permetteranno di avanzare, di arrivare alla realizzazione di te stesso in modo più rapido e più veloce quando poi arriverai all'intensivo. E ho deciso di fare, di dare questo pacchetto con uno sconto speciale, con uno sconto straordinario. Ecco, però lo faccio per tre persone, ok? Quindi vi lascio qua questo video, se ti interessa basta che mi scrivi nei commenti, colloquio, appuntamento, ci sentiamo e io ti presento meglio questo super pacchetto. Spero che questo ti sia una cosa gradita, che questo ti faccia piacere. Ecco, io mi rendo conto che, soprattutto in ambito spirituale, la fiducia sta molto molto calando perché le persone si sono presi tantissime, ma troppe e tantissime cantonate, ma non solo in ambito spirituale. Nella vita, cioè nella vita noi abbiamo vissuto tanto dolore e tante fregature, soprattutto negli ultimi anni, secondo me. Ecco, anche da chi pensavamo che potesse aiutarci o che pensasse al meglio per noi. Ecco, questo non deve essere così. Io sono qui per cercare anche di darti dei contenuti, darti dei contenuti di valore e darti degli strumenti di valore che davvero ti possano aiutare a crescere nella tua vita, nella tuo sviluppo personale e spirituale. Quindi, ok, se ti interessa sapere di cosa si tratta, cosa vuol dire fare una sessione con me, cosa vuol dire scegliere di fare un percorso, prendere questo kit e in questo modo anche risparmiare soldi, risparmiare tempo e ritrovare anche felicità e gioia e pienezza nella tua vita. Quindi è tutto a tuo favore. Ecco, se ti interessa scrivi nei commenti che sei interessato e io ti contatto personalmente e ne parliamo insieme. Intanto adesso io torno al mio intensivo, a queste splendide persone che sto stimando ma tanto, ma tanto, davvero tanto.